Antonio Mazzeo, con 36 voti su 40 partecipanti, è stato rieletto presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. Oltre ai voti di preferenza raccolti da Mazzeo, ci sono stati due voti per il consigliere Francesco Gazzetti, un voto nullo e una scheda bianca. Riconfermati vicepresidenti dell'Assemblea legislativa Stefano Scaramelli, che ha ottenuto 21 voti, e Marco Casucci, che ha ottenuto 13 voti. L'esito della votazione ha fatto registrare anche due schede bianche, due voti per la consigliere Irene Galletti, un voto per Elena Rosignoli e un voto per Diego Petrucci. Nel segno della continuità anche la rielezione a consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza di Federica Fratoni e Diego Petrucci, rispettivamente con 23 e 14 voti. La composizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è poi completata con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questori, per il cui ruolo l'Aula ha votato i consiglieri Francesco Gazzetti e Marco Stella. Gazzetti ha ottenuto 19 voti, Stella ha ottenuto 13 voti. Sento un forte carico di responsabilità quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio. Noi davanti abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati, usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili portati avanti da tutti con grande serietà, lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea legislativa a essere sempre più la casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa alle leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscane e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il Presidente di tutte le Toscane e di tutti i Toscani. Vi assicuro che oggi dopo questa votazione ero ancora più emozionato perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota. Dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche come dire un significato, ha un significato quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori. Non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo ad andare avanti in questa direzione. Con spirito di responsabilità e di servizio, far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei Toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per le proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza. È una grande responsabilità ma anche una grande gioia. Io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017, sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i Toscani. Cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante. Il segnale è importante che consolida una maggioranza solida a livello regionale. Ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centro-sinistra nel governo della nostra regione, si consolida e si rafforza il governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato e nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva a livello regionale, nel Consiglio regionale, a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto che compatta quindi questa nostra coalizione. Intanto sono molto felice che l'Aula abbia riconosciuto il buon lavoro fatto e abbia riproposto i nominativi già presenti in ufficio, questo appunto come segnale di fiducia anche per il futuro. Credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione Consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani cercando di rappresentarli al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente, quindi grande attenzione ai valori dei diritti, all'economia circolare, alla sostenibilità, ai temi del momento. Porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana al 2050 e quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica, come dicevo, di collaborazione che va oltre i colori politici. Ho voluto sottolineare il fatto che in questo ufficio di presidenza io sono l'unica rappresentante femminile e questo deve ovviamente impegnare ancora di più i lavori dell'ufficio e del Consiglio Tutto a favore appunto di una parità di genere effettiva in stretta collaborazione con la Commissione Pari Opportunità perché credo che questo sia uno dei principi fondamentali sui quali ovviamente vogliamo lavorare. Sicuramente con enorme soddisfazione e con un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo. Lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica. Lagone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte leggi e le linee di governo della regione toscana. Sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. Innanzitutto voglio ringraziare il gruppo del Partito Democratico, il Presidente Ceccarelli, anche il Segretario regionale Emiliano Fossi e tutte le colleghe e colleghe che hanno voluto propormi per questo incarico. Credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza e adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa, quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Per quanto mi riguarda io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa, il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione, ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani, noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale, degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze credo che il legame vada ancora di più rinsaldato e poi c'è un impegno assolutamente significativo che credo debba essere quello di poter valorizzare, impegnarci ancora di più insieme al Presidente Mazzeo, ai Vicepresidenti, ai segretari e adesso anche insieme al collega Stella come nuovi soggetti, come nuovi questori anche del protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri. Spesso e volentieri avvertiamo anche questa istanza ovvero la necessità che ci sia un impegno e un protagonismo ancora di più di coloro che si edono in Consiglio regionale e credo che insieme alla straordinaria attenzione delle istanze, delle necessità delle toscane e dei toscani ci sia anche la possibilità di far sì che le straordinarie potenzialità e energie che si edono in Consiglio regionale possano essere ancora di più valorizzate e messe in evidenza. Credo che questo sarebbe e sarà molto utile anche perché questo concorrerà sicuramente anche a lavorare ancora di più e con ancora più energia al vantaggio delle toscane e dei toscani in un rapporto molto stretto con la Giunta e con il Presidente della Regione Toscana. E permettetemi ovviamente di fare un grande bocca al lupo anche al Presidente confermato Antonio Mazzeo con il quale sicuramente ci saranno tutte le occasioni e tutte le opportunità per un proficuo e importante lavoro in questa seconda parte della legislatura. Tanto un ringraziamento va all'Ufficio di Presidenza uscito e al nuovo Ufficio di Presidenza appena entrato. Insieme al collega Gazzetti andiamo a ricoprire questo nuovo incarico che c'era già nella ottava legislatura, poi con la modifica del numero dei consiglieri fu tolto. Abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza, non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico, ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro, corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra Ufficio di Presidenza, Giunta e lavoro del Consiglio giugnale. Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari. Pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani, a quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti. Noi pensiamo che nell'allargamento dell'Ufficio di Presidenza non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia, delle forze politiche in quell'ufficio lì, ma c'è anche un modo diverso di lavorare. Usciamo da due anni difficili che sono quelli della pandemia, ci portiamo dietro alcune cose positive e alcune cose negative. Io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha presieduto la Commissione Europa porteremo per esempio più Europa all'interno dell'Ufficio di Presidenza, il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio. Abbiamo bisogno di lavorare sempre di più. Io sono del 1971, rappresento quella generazione Eurasmus che girava l'Europa un po' per divertimento, molto per divertimento, che nei propri viaggi, studi e nel percorso universitario trovava all'estero magari la moglie, la fidanzata, trovava magari un lavoro. Ecco, io credo invece che l'Europa di oggi con i ragazzi 18, 19 anni, 20 anni c'è un tema del tutto culturale quando si comincia a girare l'Europa che ha a che vedere con la rappresentanza, sicuramente l'ampliamento dentro l'Ufficio di Presidenza, con il fatto che siamo usciti dal Covid dove il contatto fisico è diventato un elemento quasi di distanza. Noi vogliamo riavvicinarsi ai cittadini, l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza serve anche a questo. Io porterò le istanze di tutti dentro l'Ufficio di Presidenza, porterò la mia esperienza professionale, io continuo ancora a lavorare pur facendo il Consiglio regionale, il rapporto con le imprese, penso all'internazionalizzazione, penso per esempio alle risorse che dobbiamo mettere per i poliferistici e per la possibilità per le nostre imprese di avere stand. Pensiamo al Vinitaly, perché non pensare di avere non uno stand toscana dove ci sono le aziende toscane dentro, ma uno stand della regione toscana, finanziato completamente dalla regione toscana abbattendo i costi per le nostre imprese. Ecco, credo che all'interno dell'Ufficio di Presidenza porterò anche l'esperienza della scorsa legislatura, sempre con la stessa voglia, con lo stesso entusiasmo, con un'attenzione particolare a famiglia di imprese. Alessandro Dressadore, giovane epistoiese, reduce da un grande successo ai campionati mondiali di sci alpino per diversamente abili, ha ricevuto una targa dal Consiglio regionale come esempio per la Toscana tutta. Sono stati premiati il suo talento, tenacia, forza e determinazione a voler fare sempre meglio. La mia promessa, oltre a quella di sventolare la bandiera della Toscana alla mia prossima vittoria, è quella di fare ancora di più e meglio, ha dichiarato Alessandro. Hai vinto tanti premi, questa targa è uno dei tanti. Sì, questo sì, è vero. Grazie, mi hanno spinto anche l'allenatore ad andare il meglio possibile. Quanto ti alleni al giorno? E qual è la tua disciplina preferita? La tua disciplina speciale è il SPG. Sei indeciso? E il gigante, mi metto. Quindi tutte? Sì, tutte. Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore. Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farcela e il riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana. Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno il senso delle qualità di Alessandro. Allora, questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza. Speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori. C'è un team tecnico molto preparato che ha preso in carico e ha gestito Alessandro in un ambiente familiare come la doganaccia che è riuscita a tirar fuori tutte le caratteristiche e le potenzialità di Alessandro. Lo sport è stato il trampolino di lancio per inserirlo nella società, questo lo ha aiutato moltissimo perché lo sport necessariamente ha regole, lo sport fa apprezzare i compagni, riesce poi a rispettare gli avversari e soprattutto rispettare se stesso. Quindi tutte le regole che riguardano l'alimentazione, tutte le regole che riguardano la preparazione, tutte le regole che sono necessarie per poter fare ad alti livelli perché a questo punto bisogna riconoscergli che sono ad alti livelli tutta la sua attività. Lavora e quindi ha anche questo aspetto che è importantissimo per lui, l'ha fatto molto crescere, lavora a Calenzano in una dita molto grossa, la BB Spa e quindi deve combinare l'attività lavorativa con quella dello sport che sostanzialmente lo impegna completamente. Abbiamo lavorato tanto sull'autonomia ma lo sport è stato quello che ha dato ad Alessandro quella spinta in più per migliorarsi e essere socialmente preparato ai vari gruppi che avrebbe incontrato nelle vite. Siamo rimasti molto sorpresi da questa medaglia perché non ce l'aspettavamo e comunque siamo stati molto contenti e in prossimo anno andremo più agguerriti sicuramente. Cosa devo dire di Alessandro? Vabbè che è una forza della natura innanzitutto, mi emoziono sempre a dirlo. Ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello che gli piace fare, sulle sci è molto dotato, devo dire. Io alleno dei normodotati e Alessandro, nella solita maniera, anzi lui tante volte mi è d'esempio per ragazzini molto bravi, per come la giornata affronta la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo. Grazie.